E' un momento per focalizzare l'attenzione e quindi rilanciare questa iniziativa strategica senz'altro per lo sviluppo della nostra area ma sicuramente per dare un collegamento tireno-driatico straordinario alla nostra regione. Chi sarà presente a questo convegno? Intanto il governatore della regione Abruzzo, il presidente di TUA, il rettore Luciano D'Amico e con l'ausilio di Terzio di Carlo, con l'associazione Terza Pagina e con tutti coloro che hanno percorso queste vicende, quindi sostenute le battaglie per la Fondo Valle Sangro rievocheremo anche qualche momento importante della storia di questa strada. A fianco alla Fondo Valle Sangro c'è anche un tratto ferroviario che è rimasto in sospeso? Sì, infatti abbiamo affiancato i due argomenti perché noi chiaramente vorremmo porre l'attenzione su quelli che sono i collegamenti della Val di Sangro, sia quello della Fondo Valle che quello dell'ex tracciato Sangretana. Sono due arteri importanti, ricordiamo che forse è il miglior collegamento tireno-driatico come già accennavo, su cui chiaramente occorrerà basare la strategia quindi di sviluppo del territorio. In che modo le immagina questa strategia? Ma la immagino nel senso che attraverso questo collegamento noi potremmo tanto spingere su quello che è un messaggio promozionale importante, cioè il collegamento Mari-Monti forse è l'unico modo per raggiungere proprio su questi assi, sia quello ferroviario che quello stradale, quindi è importante sia chiaramente come sistema di collegamento ma tanto altro anche come messaggio promozionale della nostra regione. Non c'è rischio che quest'annuncio come è capitato da 15 anni a questa volta sia l'ennesimo fuoco di paglia? Allora i rischi ci sono sempre, questa volta riteniamo forse che sia il momento buono, il momento giusto perché il progetto finalmente ha trovato una sua definizione perché con le problematiche legate ai problemi idrogeologici di questo tratto mancante le soluzioni sono state tante, tutte purtroppo non andate a buon fine, questa volta sono state acquisite tutti i pareri che contano, i pareri importanti, chiaramente c'è un grado di affidabilità elevato del progetto e soprattutto c'è il finanziamento che è composto da diverse risorse finanziarie statali e regionali che dovranno quindi assecondare l'esigenza di realizzazione dell'opera. Credo che sia una grande opportunità per tutto il territorio, per tutto il territorio della Val di Sangro ma anche per il territorio dell'Alto Monise perché questa è un'importante via di comunicazione per noi in quanto ci permette di raggiungere l'Abruzzo in pochissimo tempo evitando tutti i 5-6 chilometri che è un tratto pieno di curve e che adesso è praticamente impraticabile in quanto la strada di collegamento tra Sant'Angelo del Pesco e Quadri è quella che adesso viene utilizzata e che è praticamente in condizioni diciamo disumane, piuttosto piena di buche e i ponti stanno saltando quindi permetterà di restituire dignità ad un vecchio tratto e ci darà la possibilità di avere un nuovo tratto scorrevole che è un tratto che tutta la popolazione si aspetta da tantissimi anni quindi sicuramente un'iniziativa positiva e lodevole e tutti noi ci auguriamo che venga realizzata in brevissimo tempo.